La funivia ancora ferma dopo l'esposto di un cittadino sulla sicurezza delle funi e controlli predisposti dal MIT che sono stati già fatti, fa infuriare il primo cittadino. Pierluigi Biondi lancia una sorta di out-out al Ministero perché il danno è enorme. Sono due settimane infatti che la situazione si trascina sul Gran Sasso e qui è arrivata pure la neve, quindi la stazione in teoria sarebbe pronta per poter funzionare e partire, anche perché i controlli hanno dato esito positivo. Il MIT potrebbe anche indicare delle prescrizioni, questo metterebbe però la parola fine definitivamente alle speranze di iniziare la stagione, ma il concetto per Biondi è abbastanza semplice. Se ci sono problemi vanno risolti, se non ci sono e sono solo suggestioni è ancora un altro discorso. Quel che è certo è che non si può lasciare appeso un intero settore economico che ha dipendenti che attengono lo stipendio e operatori più tutto l'indotto. La funivia è ferma dallo scorso 11 settembre dopo l'esposto, movimenta tanto denaro con le sue corse, era già stata sottoposta in realtà a manutenzione e non erano state rilevate criticità. Poi la segnalazione di un privato e controlli di una ditta specializzata di godizia imposti dal Ministero, che non hanno però rilevato dei problemi. Per questo non si spiega questo blocco assurdo che rischia di mettere in ginocchio un territorio intero.